Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che è uscito il mio show. Vi lascio tutte le informazioni qui sotto nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Oggi sono qui per raccontarvi un caso che mi avete richiesto tramite il Google Docs. Non lo conoscevo affatto, ma posso assicurarvi che questa storia mi ha stupita parecchio. Ma come al solito andiamo con ordine, siamo ad Elkeridge, nel Maryland, più precisamente nella contea di Howard, ed è la mattina del 14 ottobre 1998. L'ora Billeter si sta preparando per andare a lavoro. Quando si ricorda di non aver ricevuto la chiamata che aspettava, la sera precedente dalla sua amica Sara. La donna quindi si affrettava, va verso il telefono, lo afferra, prova a chiamare Sara, ma non ottiene risposta. Poi si rende conto che c'è un messaggio da ascoltare nella segreteria telefonica. A lasciarle quel messaggio è stata Sara. L'ora ne è sicura perché riconosce il suo numero di telefono. Il punto è che rimane ghiacciata dal contenuto di quel messaggio vocale. C'è un forte fruscio di sottofondo e si sentono chiaramente le urla di una donna. E quella donna è Sara. Preoccupata, allora chiama la polizia, spiega la situazione ai detective e li prega di andare a controllare se a casa di Sara si è tutto a posto. La polizia si immobilita immediatamente, arrivano a casa di Sara e una volta che la polizia entra in casa conferma la peggiore paura di Laura. La 35enne Sara Raras è stata assassinata in casa sua in modo brutale. Ma chi potrebbe mai essere stato? Tutti sono davvero scioccati. Sara era una donna dolce, mamma di un bambino piccolo. Nessuno odiava Sara, non aveva nemici. Ma facciamo un passo indietro. Chi è Sara Raras? Sara nasce il 20 giugno del 1963 da Sara Doris e Archibob Williamson, nella contea di Bravard, in Florida, ma cresce ad Albuquerque, nel New Mexico. Ha una sorella di nome Nancy, a cui è molto legata. Quest'ultima descrive Sara come una bambina e una ragazza, piena di energie e sempre sorridente. La giovane Sara è anche un prodigio a scuola. Ottiene infatti la borsa di studio per il New Mexico Institute of Meaning and Technology, un'università pubblica che si trova a soccorro, per la precisione. Arriva il 1980 e a questo punto Sara se ne va di casa. Il fine è quello di prendere una laurea in matematica. A seguito della laurea Sara si sposa, ma il matrimonio non dura molto a lungo. Poi arriva il 1987 e a questo punto i suoi grandi sogni pare che si stiano avverando. Le viene infatti offerto un lavoro come statista presso la National Security Agency, nel Maryland. L'ambiente in cui lavora piace a Sara, ben presto stringe delle amicizie ed è proprio sul lavoro che conosce Laura Billeter. Sara è gentile, sempre pronta a dare una mano, si trova bene in Maryland. È circondata da amici e colleghi che le vogliono bene, ma sente che nella sua vita manca qualcosa. Ossia l'amore, vorrebbe tanto un compagno con cui condividere l'intera vita. Mentre la ragazza frequenta i corsi serali alla John Hopkins University, col fine di conseguire il master in statistica, incontra il 25enne Lorenzo Raras. Lorenzo è molto socievole, è intelligente e Sara è immediatamente attratta dal suo carattere. Il ragazzo proviene da una famiglia filippina molto unita e lavora per una grossa azienda delle telecomunicazioni. Ben presto Lorenzo invita Sara a prendere un caffè durante la pausa tra una lezione e l'altra. La ragazza ovviamente accetta, è entusiasta. Entrambi vogliono crearsi una famiglia e soprattutto vogliono creare una storia che funzioni. E in effetti tra i due nasce un'intensa storia d'amore. Tre anni dopo essersi conosciuti, Sara e Lorenzo si sposano. Poi, dopo tre anni di matrimonio, tutte le speranze di Sara sembrano finalmente esaudirsi perché è incinta. Sara ama essere una madre e secondo lei è molto importante che il piccolo Alex, ossia suo figlio, conosca i nonni. Ecco perché promette di fare in modo che entrambe le famiglie passino più tempo possibile col bambino. La famiglia di Sara è lontana, ora si sono stabiliti in Alabama, ma soprattutto Sara ha un lavoro che la tiene occupata per l'intera giornata. Quindi è grata del supporto della famiglia di Lorenzo, soprattutto di Emilia, la suocera di Sara e madre di Lorenzo, la quale accudisce il piccolo quando lei non c'è. La famiglia di Lorenzo è al settimo cielo perché quel bambino è il primo genito del loro figlio maggiore. Il primo figlio maschio di quella generazione per loro è il futuro capofamiglia. Emilia inoltre è solita sfoggiare il piccolo Alex anche nella casa di cura in cui lavora. E anche se la famiglia allargata festeggia l'arrivo del neonato, il matrimonio della coppia inizia a inclinarsi. Lorenzo non riceve più le stesse attenzioni con l'arrivo di Alex, quindi sente di non ricevere più abbastanza affetto da sua moglie. Diventa sempre più apatico, più distaccato, il bambino piange, ma Lorenzo neanche si degna di provare a cullarlo. In pratica Lorenzo è geloso delle attenzioni che Sara riserva al figlio. Quando dovrebbe occuparsene lui, puntualmente lo lascia da sua madre. E questa cosa a Sara non va assolutamente bene, vuole che Lorenzo instauri un legame con suo figlio. Cosa che non avviene perché l'uomo o è a lavoro o è perennemente piazzato davanti alla televisione. Agli occhi di Sara, Lorenzo non è più l'uomo affidabile che aveva conosciuto. Il suo matrimonio sta andando in frantumi, quindi non le resta che rivolgersi a sua suocera Emilia. Le chiede aiuto, le chiede di parlare con suo figlio per capire se è tutto ok. Sara ci tiene, vuole che il suo matrimonio funzioni, ma Emilia non vuole farsi coinvolgere dalle loro crisi di coppia. Dice quindi a Sara che se la deve cavare da sola, o meglio deve trovare un modo per riappacificarsi con Lorenzo da sola. Però il rapporto tra Sara e Lorenzo non migliora, anzi le cose non fanno altro che peggiorare. Così nell'estate del 1998 Sara e Lorenzo si separano. Quest'ultimo si trasferisce dai genitori, mentre Sara e il piccolo Alex rimangono a casa. Avviate le pratiche per il divorzio, la coppia ha la custodia congiunta del figlio. Sara fatica ad accettare che il suo matrimonio sia fallito. Così, un giorno in cui Alex e con Lorenzo, una sua amica di nome Lora, la porta a fare shopping per tirarle sul morale. Le due passano qualche ora insieme, si divertono e poi si salutano. Qualche ora dopo, quella notte, mentre Lora dorme, le viene lasciato un messaggio a dir poco inquietante nella segreteria telefonica. Come già vi ho detto, la mattina dopo Lora scopre questo messaggio agghiacciante in segreteria telefonica, riconosce che le urla sono di Sara e quindi allerta la polizia che arriva a casa di Sara. Come già vi ho detto, Sara è stata brutalmente assassinata in casa. Il detective Date Rettig inizia una ricerca forense della proprietà e delinea il quadro di un crimine davvero raccapricciante. Una delle finestre della veranda al pian terreno era stata completamente divelta. Se il colpevole e i colpevoli avessero semplicemente provato a scassinarla, i contatti sulla finestra e sulla cornice della finestra avrebbero fatto scattare l'allarme. Questo fa pensare ai detective che l'assassino sapesse come fare per disattivare l'antifurto. Girando per la proprietà, i detective inoltre trovano un'arma in un angolo del giardino, ossia un macete. Sembra che siano presenti delle tracce di sangue su quel macete. E la polizia è convinta che quella sia l'arma del delitto, da cui forse sarà possibile ricavare il DNA dell'assassino. Questa arma dunque viene inviata al laboratorio della scientifica. All'interno della casa, peraltro, ci sono altri indizi alquanto preziosi. Sono presenti delle impronte di scarpe insanguinate e ci sono moltissimi schizzi di sangue che arrivano fino alla parete. Due giorni dopo l'omicidio, i detective ricevono il referto dell'autopsia di Sara Raras. Quando hanno trovato Sara, era ormai già morta da 24 ore. La causa del decesso è stata la forte emorragia dovuta alle ferite multiple alla gola. Presenta una serie di ferite da arma da taglio, anche sui polsi, sull'addome e sotto il seno. È stata colpita così tante volte che è stata quasi... Così come le mani, che sono quasi staccate dai polsi. Il macete trovato sulla scena del crimine, in effetti, fornisce una traccia genetica che può aiutare ad identificare l'assassino. Infatti la polizia sulla lama del macete rileva un DNA maschile sconosciuto. A questo punto si apre la caccia per identificare la fonte di quel DNA. Nel frattempo la polizia scava nella vita privata di Sara e Lorenzo. Quindi interrogano gli amici, i parenti, la famiglia, i colleghi di lavoro. Soprattutto interrogano Laura Billeter, che condivide l'inquietante messaggio vocale che aveva ricevuto la notte in cui Sara ha perso la vita. E a questo punto emerge che una delle paure peggiori di Lorenzo era che Sara lo tradisse sia col suo capo che con altre persone. Inoltre era convinto che gli nascondesse delle cose, che avesse dei segreti. Lorenzo ne era convinto, sebbene Sara fosse stata sempre fedele. I detectives a questo punto che cosa fanno? Tornano da Laura e le chiedono se c'era qualcuno che avrebbe voluto far del male a Sara. E Laura non ha dubbi, dice immediatamente che Lorenzo era un uomo problematico e geloso. I detectives a questo punto vanno a casa di Lorenzo e della sua famiglia, col fine di interrogarlo. L'uomo sostiene di amare sua moglie, non l'avrebbe mai uccisa. Inoltre ha anche un alibi, a quanto dice. Ma si preoccupa di dire ai detectives che sua moglie aveva una relazione con il suo capo. Quindi lo indica come possibile sospettato. Poco dopo però i detectives scoprono che in effetti si erano già recati nella casa in cui si è consumato l'omicidio, esattamente cinque mesi prima. Infatti nel giugno del 1998 era stato redatto un verbale, quando Sara aveva chiamato la polizia dopo aver avuto una discussione molto accesa con Lorenzo. In base alle accuse di Sara e alla scena che avevano trovato gli agenti, Lorenzo era stato allontanato da casa. Due giorni dopo Sara era in tribunale ed era riuscita ad ottenere un ordine restrittivo nei confronti di Lorenzo. Dopo il drammatico episodio Sara aveva cercato di limitare le visite di Lorenzo a suo figlio. Quando erano state avviate le pratiche per il divorzio, la relazione tra Sara e Lorenzo stava toccando sempre di più il fondo. Sara non lasciava mai il suo figlio a Lorenzo in un luogo privato. Lo faceva sempre in pubblico, di solito nel parcheggio di un centro commerciale. Lasciare riprendere il bambino era sempre traumatico per Sara. Anche perché temeva che Lorenzo portasse Alex nelle Filippine. E in questo caso se fosse accaduto ciò non l'avrebbe più rivisto. Quindi la prima cosa che aveva fatto Sara era stato bloccare il passaporto di suo figlio. Le amiche di Sara peraltro erano molto preoccupate per lei. La donna era così impaurita che era solita dormire con una padella sotto al letto. Sara in pratica viveva nel terrore. La sera prima che fosse uccisa Sara aveva chiamato una sua amica ed era davvero spaventata. L'aveva pregata di prendersi cura di Alex in caso le fosse successo qualcosa. E in effetti il giorno dopo le era davvero successo qualcosa di terribile. Le sue più grandi paure in pratica avevano preso forma e si erano rivelate reali. A questo punto il marito di Sara, Lorenzo, diventa il principale sospettato. Le circostanze fanno pensare ad un delitto passionale in cui l'assassino conosce la vittima. Quindi il primo su cui indagare, secondo i detective, è proprio Lorenzo. L'uomo quindi viene convocato in centrale per un interrogatorio. I detective sperano di riuscire a strappargli una confessione. La prima cosa che notano i detective è che Lorenzo non è assolutamente turbato dalla morte di Sara. Non gliene può fregar di meno. Ma poi, ripete e sottolinea di avere un alibi, la sera in cui Sara è stata assassinata, Lorenzo era con suo fratello e la sua famiglia nella loro casa nella contea di Baltimora. Prima di permettere a Lorenzo di andarsene, i detective gli chiedono un campione di DNA. E l'uomo lo fornisce senza alcun problema. I detective hanno già il profilo del DNA di un maschio sconosciuto, da usare per il confronto. Il laboratorio dunque gli invia i risultati, ma non sono quelli che gli inquirenti speravano di avere. I DNA non combaciano, quindi i detective devono escludere Lorenzo come fonte di quel DNA. Questo vuol dire che i detective sono in un vicolo cieco e l'indagine deve ripartire dall'inizio. Sebbene gli investigatori non siano convinti dell'innocenza dell'intera famiglia di Lorenzo, sono costretti a cercare altri sospettati altrove, quando una perquisizione nella casa di famiglia, così come nell'auto di Lorenzo, non produce alcuna prova. A questo punto si indaga su ogni aspetto della vita di Sara, in cerca di qualcuno che potesse avercela con lei e volesse ucciderla. E in cima alla lista, a questo punto, c'è il suo primo marito. Sara era molto giovane quando si era sposata per la prima volta. I suoi amici sostengono che i due erano quasi incompatibili, ma, anche se la storia era finita male, il suo primo marito non avrebbe avuto alcun motivo per ucciderla in quel modo. Ben presto gli investigatori confermano l'alibi del primo marito per la sera in cui Sara è morta e faticano davvero ad individuare qualcun altro con un possibile movente. La verità è che nessuno aveva problemi con la vittima e questo complica le indagini. La polizia cerca anche indizi sul luogo di lavoro di Sara, ma non trovano alcuna connessione. Sara viene descritta dai colleghi che la conoscono meglio e che hanno avuto contatti con lei anche esterni all'ambiente lavorativo come una persona amichevole e disponibile. Anzi, Sara si era da poco separata da suo marito, Lorenzo Raras, ed era orgogliosa di se stessa perché stava affrontando molto bene la separazione. Era pronta ad una vita senza la presenza di Lorenzo. Quindi la causa dell'omicidio deve essere per forza legato al suo ambiente familiare. Ogni pista battuta dagli investigatori si rivela inconcludente e alla fine resta solo un sospettato, Lorenzo Raras. Il punto è che non ci sono prove, non c'è il DNA, non ci sono filmate di sorveglianza, non c'è niente. Ormai le indagini vanno avanti da sei mesi e la verità è che non c'è mai stato uno sviluppo importante. Hanno bisogno di una svolta e finalmente quella svolta arriva. Il primo giugno del 1999 la polizia della Contea di Howard riceve una chiamata dalle autorità della Contea di Baltimora. Il detective della Contea di Baltimora spiega che un detenuto, in attesa di giudizio per rapina, aveva un nuovo compagno di Cella che si era vantato di aver commesso un omicidio proprio nella zona di Eichridge. I colleghi rivelano che questa confessione era stata registrata da un informatore che cercava di farsi ridurre la pena. Era davvero arrivata quella svolta che tanto attendevano. L'audio registrato da quell'informatore mette letteralmente i brividi. Si sente la voce di un ragazzo che dice esattamente queste parole. Sai quella donna bianca che ho ammazzato? Mi diceva non uccidermi ti prego. Ed io gli ho detto vaffanculo. Ho preso il coltello e le ho sc***o la gola, capisci? Mi fa lasciami morire o qualche stronzata del genere. Diceva no no non farmi più del male, lasciami morire. E io gli ho detto... Epa maledetta! È chiaro che in queste parole ci sono tutti i dettagli di un delitto di rara crudeltà. E il detective è convinto che il detenuto, un ragazzo di nome Ardell Tickles, in attesa di giudizio per rapina a mano armata, sia il colpevole. Il detective quindi incontra questo ragazzo e accende il registratore, facendogli ascoltare la registrazione che vi ho letto poco fa. Poi lo guarda negli occhi e gli chiede, con tono di sfida, vuoi negare che sei tu? Ardell ribatte, ma sì sono io, è inutile che dica bugie. Il detective a questo punto gli chiede la sua versione dei fatti, perché ha ucciso Sara, la conosceva, aveva qualcosa contro di lei. Ora Ardell deve confessare. L'uomo racconta con molta freddezza i dettagli dell'omicidio, spiegando che aveva fatto il giro della casa al suo arrivo e aveva visto Sara a tavola. Aveva pensato di entrare dalla finestra, ma aveva capito che in quel modo lei lo avrebbe sentito, avrebbe urlato e sarebbe fuggita. Quindi aveva escluso queste ipotesi e aveva rifatto il giro della casa. Era a quel punto che aveva agito. Aveva rotto la finestra? Sara era corsa verso il telefono che era appeso ad una parete della cucina. Lui però era riuscito a raggiungerla prima che componesse qualsiasi numero di telefono. All'insaputa dell'assassino, Sara però, inavvertitamente, aveva toccato il numero 8 per la chiamata rapida a Laura Billeter. Ecco perché Laura si era ritrovata a quel messaggio in segreteria. Ma c'è una cosa ancora più terribile dei dettagli del crimine, ossia il movente dietro l'uccisione di Sara. Ardell dice di non conoscere Sara e di essere solo un sicario. Qualcuno quindi gli ha ordinato di ucciderla sotto pagamento. Il detective è convinto di sapere con precisione chi sia il mandante del delitto. Infatti mostra ad Ardell una foto di Lorenzo. L'uomo però non lo riconosce e dice di non sapere chi sia. Il detective è sorpreso che il sicario non abbia mai visto Lorenzo. Quindi decide di mostrargli una foto di Sara con suo figlio. Ma piega la foto in modo da fargli vedere solo Sara. Ardell appena vede quella foto la riconosce, quella è la vittima. Il detective a questo punto mostra ad Ardell l'intera foto. E il ragazzo cambia totalmente espressione, sembra terrorizzato. Il detective quindi gli chiede se lo conosce, se sa chi sia quel bambino. E Ardell gli risponde che sì, conosce quel bambino. Il detective gli chiede quindi come lo avesse conosciuto. E il ragazzo spiega che una sua amica asiatica lo portava spesso da lui in lavanderia. Questo vuol dire che la mandante dell'omicidio è la suocera di Sara? Facciamo chiarezza. Emilia e Ardell lavoravano nella stessa casa di riposo. Lei era un'infermiera mentre lui lavorava in lavanderia. I dipendenti li vedevano parlare sia nell'area relax che durante la pausa pranzo, quindi quando erano in mensa. Quindi i detective possono stabilire che in effetti c'era una connessione tra i due. Emilia scopre che Ardell è legato a un gruppo radicale secondo il quale gli afroamericani dovrebbero vendicarsi delle regole tiranniche imposte dall'America Bianca. La donna quindi cosa fa? Lo manipola. Gli racconta che sua nuora, ossia Sara, ha fatto abortire una donna nera incinta spingendola giù dalle scale. Cosa ovviamente non vera. Ma Ardell è una testa calda e non ci mette molto ad accettare di andare ad uccidere Sara. Ovviamente il ragazzo non sapeva che ci fosse un legame familiare tra Emilia e Sara. E mentre il piano diabolico prende forma, Emilia rende l'accordo ancora più allettante. Ardell infatti sostiene che per commettere questo omicidio Emilia l'ha pagato. Gli ha avvolto in un asciugamano una mazzetta da 3000 dollari. Il detective inoltre scopre altrettanti particolari agghiaccianti. È convinto che Emilia abbia spiegato ad Ardell semplicemente come raggiungere casa di Sara. Quindi gli chiede, ti ha dato una mappa? Ti ha spiegato a voce come raggiungere la casa di Sara? Ardell risponde immediatamente, in realtà Emilia mi ha accompagnato. La promessa di 3000 dollari e la possibilità di punire la responsabile di un crimine a sfondo razziale mai commesso sono sufficienti perché Ardell la uccida. A questo punto con la confessione di Ardell registrata la polizia convoca Emilia Rasas per farle un interrogatorio e magari per farla anche confessare. Emilia in effetti confessa, anche perché c'è già la confessione di Ardell che dice tutto, lei deve aggiungere ben poche cose. E in effetti Emilia non fa la finta tonta fortunatamente, infatti ad un certo punto il detective insiste sul motivo per cui Emilia volesse morta Sara. Emilia dopo varie risposte che in realtà non erano risposte, afferma che la nuora non era abbastanza rispettosa e cortese con lei. Sostiene che Sara le aveva mancato di rispetto perché durante il periodo della gravidanza l'aveva allontanata. Sara voleva viversi quel momento in santa pace, ma non riusciva a farlo con Emilia che andava a casa sua tutti i santi giorni, anche quando Sara l'aveva pregata di lasciarla un po' più tranquilla. Emilia dice che Sara le ha praticamente sputato in faccia quando le ha chiesto di lasciarla un po' più tranquilla. Il detective che conduce l'interrogatorio delinea il profilo di una donna votata alla vendetta per dei semplici sgarbi personali. E poi le chiede del figlio che Sara ha avuto con Lorenzo, ossia Alex. Il detective per l'esattezza le dice Mi correga se sbaglio, ma nella famiglia il figlio maschio è tenuto in grande considerazione, giusto? Emilia aggiunge immediatamente Per tradizione, amiamo i maschi perché tramandano il nome della famiglia. Il detective riprende dicendo Ok, esatto. E mi dica Sapeva che c'era la possibilità che suo figlio perdesse la custodia di Alex? Emilia risponde Sì, e questo non poteva succedere, non doveva succedere. Emilia quindi in questo caso aveva un movente ben preciso, ossia riuscire a mantenere a tutti i costi la custodia del bambino. Si sentiva minacciata e pensava che il suo nome si sarebbe perso, senza l'affido esclusivo del nipotino. Stabilito un movente plausibile, quindi i detective chiedono ad Emilia quando abbia ordito il piano con Ardale Tickles. La donna spiega che dalla lavagna dei turni conosceva solo il suo cognome, ossia Tickles. Il detective a questo punto le chiede E mi dica Come siete arrivati al punto in cui lui si è offerto di aiutarla? Emilia risponde Gli ho chiesto Cosa faresti se qualcuno mi sputasse dritto in faccia? Lui mi ha risposto È facile Ti aiuterei a vendicarti Tuttavia per quanto riguarda la natura dell'accordo tra lei e Ardale Emilia fornisce un'altra versione dei fatti Infatti il detective le dice Beh, Ardale ci ha detto che lei lo ha soldato per uccidere sua nuora Emilia ribatte No, non è andata così per niente Non pensavo che l'avrebbe uccisa Ha detto che per vendicarmi avrebbe tirato dei sassi contro la casa A questo punto mi sorge una domanda Chi pagherebbe 3000 dollari per far lanciare dei sassi contro una casa? Ma non scherziamo Emilia insiste nel dire che suo figlio Lorenzo non è coinvolto E non ha idea di cosa sia successo Lorenzo crede semplicemente che qualcuno si sia introdotto in casa Ed è vero, suo figlio Lorenzo non c'entrava assolutamente nulla Emilia ha fatto tutto da sola L'odio cieco di Emilia verso Sara Il desiderio di non perdere la custodia del nipote Più la chiara confessione di Ardale Tickles Creano finalmente un quadro completo della situazione Ed ora i detective sì che hanno le idee chiare I detective però non sono sicuri che Lorenzo non sia coinvolto Hanno sempre il dubbio che lui c'entri qualcosa Quindi intercettano le telefonate che Emilia fa dal carcere a suo figlio Ma non emerge alcuna prova che dimostri fosse coinvolto Anche se i cari di Sara ancora oggi credono che abbia contribuito In qualche modo alla sua morte A questo punto la polizia accusa Emilia Raras e Ardale Tickles di omicidio Gli amici e la famiglia di Sara scoprono presto la notizia E sono scioccati dal coinvolgimento di Emilia Non capiscono come sia arrivata tanto Arriviamo al 12 giugno del 2000 Quando Ardale Tickles si dichiara colpevole E viene condannato per omicidio di primo grado all'ergastolo Con la possibilità di libertà condizionale Emilia invece viene processata nel gennaio del 2001 E si dichiara non colpevole Che è da sottolineare che nessun membro della famiglia si presenta in tribunale per sostenerla Tutti le hanno voltato le spalle Tutti sono schifati dal gesto che ha commesso E dico schifati perché vi assicuro che tutta la famiglia ma anche i figli di Emilia Hanno preso le distanze da lei Non la vanno neanche mai a trovare in carcere La giuria dopo aver deliberato per circa 18 ore Dichiara Emilia colpevole di omicidio di primo grado E lei a differenza di Ardale viene condannata all'ergastolo Senza possibilità di condizionale In tribunale la donna per la prima volta mostra un'emozione Quindi si mette a piangere Affermando la sua innocenza Infatti dice Vorrei dire all'onorevole corte che non aveva alcuna intenzione di uccidere Sara Sono molto molto dispiaciuta che sia successo Il giudice impassibile descrive Emilia come una persona malvagia Priva di qualsiasi vero rimorso Nel 2010 Attenzione Emilia chiede di essere scarcerata A fronte di una pena come quella dell'ergastolo Affermando che i dieci anni passati in prigione L'hanno resa più religiosa e meno arrabbiata Ovviamente non è stata assolutamente scarcerata E probabilmente morirà in carcere Oggi ha 85 anni Credo che questo caso sia straziante Un bambino ha perso sua madre e non la ricorderà Potrà forse conoscerla tramite delle foto Credo che Emilia sia una donna profondamente egoista Molti amici di Sara seguito di questa tragedia Hanno sostenuto che Emilia avesse parecchio a che fare Con il fallimento del matrimonio tra suo figlio e Sara A mio avviso Emilia merita l'ergastolo Merita di svegliarsi ogni mattina Dietro le sbarre ricordando di aver tolto la vita Alla madre di suo nipote Ardale credo che meriti allo stesso modo di stare in carcere Perché ho il dubbio che non si farebbe problemi ad uccidere di nuovo Specialmente dietro un compenso in denaro Questo è tutto, io ho finito di parlare in questo video Fatemi sapere cosa ne pensate di questo caso Sono molto curiosa di sapere le vostre opinioni Avevate capito che la colpevole era Emilia? Fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti Perché io proprio non ci ero arrivata Quando ho letto che la colpevole era lei Ho detto, oh mio dio ma sul serio? Quindi fatemi sapere tutto quello che volete Come già vi ho detto qui sotto nei commenti Io nel frattempo vi mando un bacione Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video Mi raccomando fate i bravi Continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene Ma soprattutto prendetevi cura di voi E fate ciò che vi rende felici Basta che non fate nulla di criminale Ciao a tutti Ciao a tutti